Giulia Delellis e Tony F, la coppia più chiacchierata dell'estate, sembra essere scomparsa dai radar. Dopo aver reso ufficiale la loro relazione, la loro visibilità è drasticamente diminuita, alimentando sospetti di una possibile crisi. Tony F, atteso alla premiere di Il Gladiatore 2 insieme a Giulia, è arrivato da solo e ha evitato i microfoni dei giornalisti, alimentando ulteriori speculazioni sulla loro relazione. Anche il mancato accompagnamento di Tony al matrimonio della cugina di Giulia ha fatto crescere i dubbi sullo stato attuale della coppia. La storia tra Giulia e Tony è iniziata nell'estate del 2024, quando sono stati visti insieme in varie occasioni pubbliche. Dopo mesi di frequentazione, hanno reso pubblico il loro legame a settembre dello stesso anno, condividendo la loro prima foto insieme sui social. Tony ha confermato la relazione durante un concerto a Roma, riferendosi affettuosamente alla mia ragazza, senza però citare il nome di Giulia. Ora il silenzio che avvolge la coppia ha fatto tremare i fan che si chiedono se la loro storia sia giunta al capolinea. Resta da vedere se Giulia e Tony riusciranno a superare questo momento di crisi e a ritornare alla ribalta mediatica. Per ora, i due sembrano aver deciso di mantenere un profilo basso.